Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare. Wildem. Wildem è una grande famiglia. Un'associazione che difende i diritti di chi ha una disabilità neuromuscolare. Cosa vuol dire? Che ogni giorno ci impegniamo per giocare, vivere, lavorare e studiare. Come tutti. Abbiamo 65 sezioni in tutta Italia che si danno da fare ogni giorno per abbattere barriere architettoniche e culturali. Cerca la sezione più vicina a te e diventa social Wildem. Perché l'inclusione inizia con te. Con me. Con noi. Con noi. Con noi.